Musica Eccoci qui ragazzi come al solito buongiorno, buonasera o buonanotte purtroppo chi la sta guardando questa puntata durante la notte, non so se converrà in quanto questo gioco sembra sempre più spaventoso e siamo solo all'inizio ragazzi, continuiamo a giocare dove ce l'hiamo lasciati? all'addio della moto Sega ora ricordo dopo svariate morti siamo riusciti a trovare il nascondiglio dentro quella l'armadietto e ora dobbiamo continuare perché dobbiamo finire il primo capitolo ragazzi eccolo lì capitolo 1 chiamata d'emergenza sotto abbiamo se rimani immobile recuperi parte della tua salute come indizio quindi sarò molto spesso immobile a quanto pare comunque attenzione allora vediamo un po' dicono di sconsapevolezza del nemico comando informazioni prossimità un nemico vicino a te consapevolezza un nemico ti ha individuato ok quindi quindi quell'occhio ci può far capire se il nostro nemico ci ha visto o no resta il fatto che questo mi vede o no mi spaventa come al solito oh mamma rai solo dai voci guarda lì che roba non mi deve vedere il nostro personaggio dice non mi deve vedere io pensavo il contrario però guarda eccolo là guarda l'icona come ci guarda via 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 dove va io oh non vedi un altro armadietto raga non so cosa fare oh ah non mi ha visto perfetto via dobbiamo entrare lì dentro dobbiamo entrare lì dentro me lo sento oh no 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 mi capirai qua via 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 chi è incazzato raga è incazzato oddio ha rotto lì l'ha rotto oh porca troia mo oddio sta incazzato nero raga aiuto oh mamma oh mamma porca puttana vai via si ma mo che faccio io allora appena passa la porta devo oddio no 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 ti prego no no vai via porca troia sono un cretino vai via bravo così vai via vai via andiamo 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 vai 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 che culo via vai via vai vai che non ci ha visto che non ci ha visto porca troia mi sta seguendo no mamma mia via via scappa scappa più veloce che puoi ci sono dei dati ci sono dei dati no c'è un checkpoint c'è un checkpoint via scappa 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 oh no lo sento vicino eh vabbè però non va bene così non va bene così e dai non scapperemo mai non scapperemo mai alzate sbrigate vai che si è aperta la porta che culo veloce veloce oh mamma raga ne siamo scappati siamo dentro un ascensore perfetto perfetto eh sospira sospiro più io ragazzi qua si smaltisce si smaltiscono i chili dove ci porterà questo questo ascensore pure le pastiche butta via ma magari te facciano bene che ne sai porca miseria raga vediamo il video storia di taru yugana music masafumi takkata concert design kumina kamura impressionante pare un film the evil way team forse il coraggio ce la possiamo fare allora i numeri non mi piacciono allora ecco l'ospedale di prima ah qua è dove sono morti guardate i poliziotti eh questi oh 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 ma che sono matti mamma mia qui sono i poliziotti del video raga vai via vai via veloce ragazzo stiamo qua all'entrata principale dove è ecco la luce via 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 veloce apri sta porta cosa cosa cazzo sta succedendo la fine del mondo chi è la macchina buona buona mi fido ma butta il genzo vai che ci fidiamo la poliziotto qualunque oh sali mi fanno scherzi oh mamma guardate lì sopra il tetto chi c'è mi pare la copia cattiva di assassin creep oh chi sono ehi dov'è joseph mi spiace ma è rimasto dentro l'avrei aspettato ma adesso calma calma di leslie 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 non cazzo no guarda non si torna indietro alza cavolo il segno è tutto distrutto ma stiamo scherzando manco su gta guido così è un fenomeno questo da qua come si muove devo dire una cosa come grafica mi aspettavo meglio in questi video oh ma chi è qua ma è la nave minchia si sta spostando tutto quanto la terra guardate mamma mia come ci è passato il pelo per un pelo raga preghiamo penso sia finito madonna mia come è distrutta siamo salvi ma come stai male cazzo non ci sente nessuno saranno tutti morti tutto bene lì dietro qualche scossone ma tutto ok sarà tutto ok una volta via da qui tra poco saremo al sicuro bello no raga facciamo questi scherzi non facciamo questi scherzi no no vai è un pazzito guarda qui da dritto oddio che schifo oddio che schifo raga attento ma che no 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 niente cazzo è finito il gioco nel possibile siamo morti poi capitolo uno si è superato salviamo la partita accettiamo capitolo successivo buona per ora abbiamo finito il primo capitolo ragazzi è stato da tachicardia ragazzi tachicardia ed ora posso dire cosa ci aspetterà il secondo capitolo anche perché finora abbiamo solo preso botte siamo solo scappati siamo esplosi con la macchina riusciremo a fare qualcosa lo spero porca miseria comunque secondo capitolo quel che rimane dove stiamo oh mamma che è sto effetto si guarda che roba dove stare a portare intanto sono legato quindi non mi posso muovere oddio mamma che figata però sto effetto ragazzi piace troppo vada vada oddio oh ma chi la fa da farmi muovere tu chi sei però la dottoressa mi piace dottoressa vieni vieni che tu mi puoi far guarire tu mi puoi far guarire dove andate oh oh ma sto a morire ma andate ah e ciao oh chi è questo oh no raga no no oddio che schifo no una mano mi sta venendo a piangere oh vai via oh mamma mia era un brutto sogno e io avrò gli incubi fra no anche io butti i sogni questa sera questa notte porca miseria c'è un giornale leggiamolo rinvenuti cadaveri cadaveri trovati vicino al lago la cosa è decesso resta sconosciuta nel villaggio di Elkriver sono stati ritrovati circa dieci cadaveri tutti mutilati molti abitanti mancano ancora all'appello bene cominciamo bene chi è sta cosa una scatola con il cervello dentro chiamiamo il cervelletto una pisciatina di fa ehi c'è nessuno qualcuno che viene oh apri sta porta scarafaggi due numeri 0704 si potremmo giocare all'otto raga oh buonasera siamo svegliati siamo svegliati si andiamo andiamo come stanno tutti la città di che cosa sta parlando al momento c'è soltanto lei qui andiamo raga oh andata a polpastello polpastello un ospedale questo è il posto che fa per lei lei qui è a casa sua sono stato ricoverato temo di non poter rispondere prego firmi qui se non firma qui salviamo tanto firmiamo ci fighiamo della bella pollastrella firmiamo senza leggere cosa ragazzi che a voi consiglio di non fare mai cacchio mi apre un cancello guarda andiamo avanti finché possiamo andare avanti ma là c'è una sedia che non mi piace vabbè una poltrona un faretto mi illumina i cento di cervelletto mica tanto sto ancora piegato in due prego si si va bene andiamo io fa male lo stomaco il mio oh oh no non vale eh lo sapete la solita zocca che è successo non abbondare resistenza è per il suo bene no basta basta cosa ha potenziato ecco fatto visto ora va meglio oh mio dio sto impazzendo ma io sto ma io me l'affogo che aspetti tanto il rumore sotto è assordante ma vedi siamo tornati siamo vivi siamo vivi questo è questo siamo buttati prima qua lampeggia qualcosa merda che diavolo sta succedendo una siringa la prevenenza del medicinale ottenuta da questa siringa da viaggio è ignota ma ripresse indiscretamente la salute dove sono cazzo ma questa era che nemmeno il mio R possiamo equipaggiare la siringa beh ci droghiamo connelli rispondete oh non vedi cervelletto oh altro cervelletto ma non mi piace altro cervello mo' date oh non vedi col triangolo col triangolo se meno buono così abbiamo scoperto una cosa nuova raga a me via l'ansia però non lo stiamo no raga ho paura eh col triangolo corpo a corpo ok l'abbiamo scoperto adesso vai a mano altro che bello ci piace la c'è la luce seguiamo la luce raga seguiamo la luce di sicuro da qualche parte porta mi vorrei aver visto un'ombra incomincio a cagarmi sotto raga buona la luce una lanterna stai facendo scherzi oh chi è cazzo è ferito ma non era chi guidava quello guidava l'ambulanza l'ho trovato l'ho trovato qua c'è da guardare qualcosa sicuramente oh ma che si sta ma che schifo raga buona la pistola mi gusta pure carica 6 colpi per noi è lui è quello che guidava raga oddio mamma raga che schifo oddio che si è diventato no che mira oh mo' è finita minchia è staccata testa là non mi regala niente o altro cervello no perché mi regalate più niente allora qua proviamo a vedere qualcosa qui magari torna utile spacchiamo un po' in giro se si può spaccare no è tutta una finzione ok sì ma io rivolgo la lanterna dov'è io senza l'interna non mi voglio muovere raga io mi cago sotto qui dentro allora tieni ok quelle perfetto grazie il gioco ho già capito tutto qua non c'è niente qua ora c'è il cervelletto questa non si rompe e dentro non c'è niente quindi possiamo andare via che è qualcosa oddio chi è quello sì ma quello mi pare già riconoscerlo ah ma vedi chi c'è c'è la bello male male ehi ma che so quelle palline che girano intorno volevi avvisarmi di questo tu sei leslie vero sono un poliziotto forse posso aiutarti aiutarti marta come faccio a portarti in un ospedale ospedale è il caldo ha la parola magia per farlo scappare ospedale mannaggia dove vai io ma che cazzo mo so perso oddio mi ero appena mosso no raga ha levato un sacco di vita non ce l'ho la siringa vero non ho la siringa no la devo disinnescare con x l'ho anche letto incominciamo bene allora tienimo l1 e scatta ma consumi energia si ma non posso non posso più scattare raga allora spegniamo la lanterna io c'ho paura troppi corvi raga oh mamma alla vicina del nemico a terra premi cerchio per bruciarlo e distruggere il corpo consumerei un fiammifero se i nemici dello stesso tipo sono abbastanza vicini tra loro puoi bruciarli con un solo fiammifero puoi bruciare altri oggetti oltre ai cadaveri e ai nemici ok allora io presumo che quelli siano fiammiferi se finora non ce l'avevo ok boom e che fuoco sia ha brustolito vediamo poterlo lasciare qualcosa oh eccola qua bel cervelletto basta così allora quello che ho capito il cervello ci potenzia le cose quindi dobbiamo rendere il più possibile che cazzo allora allora se bruciare altri oggetti qua dentro presumo ci sia qualcosa e li dobbiamo dare fuoco infatti immagino male ho immaginato male una bella casetta quella è un'ombra se un'ombra mi cago sotto raga mi pare non ci sia nessuno c'è un cervello oh mamma mia già mi sono cagato sotto dannata perché si è chiusa la porta cosa succede tanto ci veniamo al cervello come una 300 ma cos'è questa se basti anche a sé ma è troppo lungo raga contentatevi mettete pausa e vedete oh 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 merda oh vediamo dove ci porta di nuovo qua ma è un teletrasporto di nuovo qui sto diventando pazzo l'omino dice sto diventando pazzo noi li stiamo dietro stiamo diventando pazzi anche noi non so dire se l'incubo fosse quello di prima o questo la mia è piaciuta l'altra volta che cosa è successo? proviamo mi ha diventato una droga sta serie allora potenziamo le abilità ammazza chiedono parecchio le abilità le armi cadenza di tiro tempo di ricarica capacità del caricatore precisione danno critico riserva seringhe fiammiferi fiammiferi potrebbero servire io punto munizione pistola perfetto io punto ad avere una carica molto alta in quanto dovessero servirci siamo pronti ad avere molte munizioni per sparare ok oh vedi che è uscita fuori ciao bellezza allora si salviamo 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 finora non abbiamo incontrato nessuno zombie eccetto il poliziotto che abbiamo massacrato con la pistola una nuova arma eh proveremo andiamo corriamo 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 let's go beh abbiamo capito in questo gioco non possiamo specchiarci perché ti teletrasporti non si sa dove pensiamo ad uscire ora piano piano ma se uno di da destra andiamo a sinistra ok oddio quanti sono sono due raga io faccio non mi ha visto non mi ha visto vai bussa alla porta quello bussa alla porta allora uccisioni silenziose r1 più x uccisioni silenziose piano 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 avviciniamoci piano piano ecco l'occhio là sopra che esce fuori non ci vede r1 già premuto andiamo con l'x mamma mia vai così vai a terra e ti diamo fuoco ti vedo anche bruciare ti vedo anche bruciare mi gusta questi zombie non lasciano niente qui non c'è niente e qui non si passa ma dobbiamo per forza andare a fare botte cacciamo la pistola oh dove è andato quello? ma è scappato via vabbè buona così supera gli ostacoli attraversa le finestre con x ok ricordo x in quanto stiamo giocando su playstation va bene andiamo c'è una madonnina lì un fuoco che arde una porta aperta un mazzo di chiavi buona così che si pira da sole le porti ho paura vai con le bottiglie allora c'è uno zombie qui ehi siete di queste parti non so dove ce la faccio ma che è rumore assordante rumore assordante oh che cazzo no no ma ne bastava uno allora l2 mira quando sei entro un determinato raggio del nemico finché ti andiamo avuto il comando mira automaticamente al nemico più vicino fronte a te oddio raga avete paura ma io mi ho finito secco finito le munizioni vai via 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 va a terra a terra a terra è morto oddio una siringa buona così voglio da fuoco però lì c'è il secondo sarebbe da coltellare ma questa si sta scammina a destra e a sinistra ci avviciniamo accoltelliamolo vai così vai così bubusette chi c'è sta qui dentro 5 cerini raga munizioni siringa qua ci nascondiamo che non si sa mai io vedo quelle palline usciamo e questa volta ti ti devo dalle coglioni ti devo dai coglioni questa volta vai così pezzi trappole servono preparare i tardi per balestra agonia si usano nell'inventario i nemici sono morti mi carico la mia pistolina andiamo da sta parte oh cazzo due sono uno là e uno lì minchia non te regala niente a sto gioco checkpoint allora facciamo una cosa ragazzi siamo arrivati in questo punto due nemici davanti ne abbiamo uccisi due stiamo in un momento critico stiamo penso a metà secondo capitolo e voglio fare una cosa in questo checkpoint io vi saluto ci vediamo alla prossima vedremo cosa succederà dopo questi due zombie dopo questi due falò che sono due belli falò dobbiamo bruciare questi zombie io vi saluto a tutti quanti ragazzi spero vi sia divertito vi siete divertiti vi sia piaciuto questo video e in mezzo a questi fulmini di tempesta di 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 io vi saluto let's go baby a a a Grazie a tutti